Lo scrutinio per la nomina del corporente dell'ufficio di presidenza, Giova, Roberta Giova, Roberta Giova, Roberta Giova, Roberta Giova, Roberta Giova, Roberta Giova, Adriana Cavallo, Giova, bianca, rotetta Giova, Giova, rotetta Giova, Giova L, Giova, Giova L, rotetta Giova, 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 rotetta, rotetta Giova, rotetta Giova, bianca. Allora, procedo qui allo scotia, contenuto tutti 20, Roberta Giova, uno Andrea Capano, una nulla e due bianche. Quindi viene eletta nell'ufficio di presidenza la consigliera comunale Roberta Giova. Allora, prima di concludere il consiglio comunale, facciamo anche ripediare la esecutività per alzata di mano. Ok, all'unanimità, si approva. Dicevo, quindi, prima di concludere il consiglio comunale, volevo comunicare che nella giornata, sì, do quindi autorizzazione agli studiatori per distruggere le schede. Allora, la giornata di domani arriveranno le pubblicazioni per le commissioni, e, probabilmente, faremo lunedì mattina l'insediamento delle commissioni con la nomina del Presidente. E anche lunedì sarà convocata la conferenza dei capi gruppo, perché, come sapete, c'è un ulteriore consiglio comunale per la salvaguarda degli individui di bilancio che dovrà essere fatto un quattro mesi. Bene? E chiaramente, prima del capi gruppo, ci sarà anche l'ufficio di presidenza. Quindi, grazie a tutti, buon lavoro e buon caluto a tutti. Buona giornata. Grazie.